Ehi, due comunicazioni importantissime direi per il canale Una, oggi niente show, niente show oggi che è domenica Non inizieremo oggi reset tier O sto avendo problemi con il computer Sto avendo problemi con tutti i giochi che mi avete chiesto di fare Nello straw poll, quindi per questa settimana non riesco a far andare nulla Quindi cominceremo con quello che credo sia reset tier Ma al massimo può essere free of force se non riusciamo a far andare reset tier in nessuna maniera Settimana prossima, domenica prossima Invece, cosa molto importante Per la prima volta dopo centinaio di puntate Soltanto per la puntata di questa settimana Solo per questa settimana Solo per questa settimana Il Glicero Super Show non andrà in onda al lunedì Ma al martedì È stato molto gentile Zetto a darmi lo spazio di martedì Quindi tutto sarà probabilmente scalato Con martedì, mercoledì, giovedì, venerdì Sapremo un po' di più a breve Vi comunicheremo tutto sui nostri canali E ognuno avrà la propria live E guardate quindi i nostri canali di youtube Per sapere la programmazione live di questa settimana Quindi oggi niente show, niente live Non inizieremo oggi reset tier Quindi potete stare tranquilli e andare a guardarvi alla televisione E ci vediamo invece che lunedì Per il Glicero Super Show Ci vediamo martedì Ok? D'accordo? Quindi a martedì Saluti